Cari amici, buona domenica! Siamo entrati nel tempo ordinario, nel tempo che dice la nostra attesa del compimento della nostra vita in Dio dopo avere accolto il mistero del suo Natale. E vogliamo continuare a interrogare i Vangeli di queste domeniche partendo da quella domanda molto semplice che ci siamo posti anche dinanzi al mistero del battesimo di Gesù. Perché Gesù è nato? Perché Gesù è il Dio fatto uomo in mezzo a noi? Con singolare puntualità la Chiesa ci offre quest'oggi di riflettere sul mistero delle nozze di Cana. Il Vangelo di Luca lascia spazio a Giovanni perché si vuole proprio rispondere alla nostra domanda. Come mai Gesù è nato? Voi sapete che le nozze di Cana avvengono dopo la prima settimana, sono il compimento della prima settimana della vita pubblica di Gesù. E già questo è molto significativo, vuol dire che si sta compiendo, si sta realizzando una nuova creazione. Come la settimana raccontata nel primo capitolo della Genesi ci dice il mistero, l'avvenimento della creazione di Dio, così questa prima settimana del ministero pubblico di Gesù dice i passi, il compiersi di una nuova creazione. E questa nuova creazione è proprio posta nel suo compimento, in quel settimo giorno che vede nella prima creazione Dio riposarsi e contemplare la bellezza di quello che ha fatto. La nuova creazione che cosa è? Sono le nozze del figlio con l'umanità. Ecco perché Gesù è nato. È nato per fare alleanza con noi, è nato perché vuole sposarci, è nato perché vuole costruire una relazione definitiva piena compiuta con ciascuno di noi. Non possiamo tralasciare però di considerare i protagonisti di questa vicenda. Abbiamo parlato di Gesù, sì, abbiamo detto perché è nato, ma vediamo entrare in gioco fin dall'inizio Maria, la madre di Gesù. È lei che vede la sofferenza, la fatica di una umanità che pur essendo chiamata a vivere un rapporto nuziale con Dio, si trova mancante di qualcosa che è necessario, il vino della festa, il vino della gioia, il vino che porta alla sovrabbondanza, al compimento della festa. E allora sollecita il suo figlio Gesù. E il suo figlio Gesù rimanda nelle parole che rivolge a Maria, sua madre, questo compimento allora che verrà, all'ora della sua passione morte e risurrezione. Ma nello stesso tempo Maria sa che il cuore del figlio è per gli uomini, perché Gesù ha un cuore per gli uomini. E allora dice ai servi fate quello che vi dirà. È molto bello in questa pagina di Vangelo scoprire, e qui è la lingua greca che ci aiuta, la terminologia con cui sono definiti i servi. Il servo nel senso di schiavo, nella lingua greca, è doulos, douloi, sono gli schiavi. Qui vengono i servi definiti diaconoi, quindi quelli che svolgono un compito dentro l'edificazione del popolo di Dio, per le nozze del popolo di Dio. E questi servi, che sono tutti anonimi, sono però quelli che sanno, conoscono, chi è colui che ha portato a compimento quell'opera, che ha trasformato quelle giare di oltre 500 litri di acqua in un ottimo vino. Forse ciascuno di noi può essere quel servo quando è capace, come diaconos, non come spregiudicato protagonista, non come superbo affermatore di se stesso, di riconoscere l'opera di Gesù e di essere a servizio dell'opera di Gesù, perché le nozze con l'umanità continuino a fiorire, a ravvivarsi, a crescere, manifestarsi. Poi abbiamo altri due personaggi, quello che il Vangelo ci presenta come il direttore del banchetto e quello che nel Vangelo è lo sposo, i quali si trovano dinanzi a un dono inatteso, inesperato. Gesù non si manifesta a loro, Gesù semplicemente mette a disposizione il suo dono e questo direttore del banchetto e lo sposo che metteva a disposizione del direttore tutti i beni che doveva amministrare per sette giorni, perché durava sette giorni la festa di nozze, ebbene alla fine deve scoprire la grandezza di quello che riceve. Anche noi, come gli apostoli di Gesù che hanno camminato con lui in questa prima settimana del suo ministero pubblico dopo il suo battesimo, anche noi vogliamo cogliere il segno della sua gloria, non soltanto un po' di vino che rallegra, ma cogliere lui che è il vino nuovo, perché se si fa alleanza con lui c'è la festa, ci sono le nozze, è nato per essere con noi. Buona domenica. Nozze 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 Nozze